Grazie a tutti 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 Buongiorno Buongiorno In questa festa nella quale celebriamo Dio Il mistero è un unico Dio questo Dio è il Padre è il Figlio è lo Spirito Santo tre persone ma Dio è uno ma il Padre è Dio il Figlio è Dio è orientato il nostro cammino nel annuncio del Vangelo e in ogni forma della missione cristiana non si può prescindere da questa unità alla quale chiama Gesù tra noi seguendo l'unità del Padre e del Figlio dello Spirito Santo non si può prescindere da questa unità la bellezza del Vangelo richiede di essere visuta l'unità e testimoniata nella concordia tra noi che siamo osservati